L'Odissea L'Eplosione dell'Universo Vicino a una stella, il Sole, il nostro pianeta si è formato nel vuoto Il suo destino? Nutrire i semi della vita Inevitabilmente l'evoluzione sulla Terra ha fatto nascere i grandi quesiti sull'Universo misterioso che ci sovrasta sulle nostre origini e il nostro destino tra la moltitudine di stelle lontane 5 miliardi di esseri umani appollano la piccola Terra ammassati su un solo dei nove pianeti che ruotano intorno al Sole grazie a tutti grazie a tutti